Lavoro in corso nella stanza dei rettini Ce la faccio Ti sei riuscita? No, qua dicono Anche questo pezzettino qui No Si è incastrata Beh, insomma, oggi dobbiamo fare cose Giusto? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cambiargli il terrario lui Perché mi serve il suo terrario Ladra Eh, ma perché il mio oggetchino è diventato gigantesco Non so cosa farci No, metteremo il ricerco dentro Ha quasi gli occhi da umano Si, mi sembra La faccia da... Ti capisco, però poi lo guardi e capisci che non è vero Però che stupido che è Oddio Oddio, c'è nuova roba Oddio, dobbiamo andare subito a capire che cos'è Che cos'è questa cosa qui Posso nascondermi di nuovo Dov'è? Eccolo, oddio È già sotto Che bella posizione L'hai investito? Ah no, è lì Musino Oddio, oddio Evate, evate Fallo evadere Lascialo evadere Ciao Ciao Musino Che ti fai qui? Guardala com'è contento adesso Yeee, posso sotterrarmi Scalo, guardalo Il sotterrario è diventato una montagna di cosa È lì Ma non si vede Adesso stiamo facendo il terrario per Richard E abbiamo fatto un mix di substrati Con faggio e sabbia E adesso ci metto un pochissimo di torba acida Per fare consistenza Perché ovviamente la sabbia non è una grande Andarmi su un substrato Iniziamo La passione Se tu fai Iniziamo Siamo tornati, sta mistelando, mischi, mischi, si basta, filmare, invece ti filmo Guarda, 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 che miscuglio intenso di cose, infernando che hai in attesa di cibo, guardalo, guardalo com'è imbruttito, Fernando L'ho appeggiato in maniera malinconica Poverino, è tutto senza niente qua, come fai? Come fai adesso? No, no, no E come fai? Oddio, che carino che sei Guarda, con gli occhietti tutti estati Oddio Oddio, che occhi Secondo me no Non c'entra niente, non ho interrotetto Guarda, sarebbe, boh, cioè, è carino perché mi dà la decorazione, ma Secondo me qua ci sta Secondo me non c'entra niente, però se vuoi metterlo, va bene Questo è un terraria bellissimo Tranne quello, quello è questo Mi sposti il signor Richard, che così avrà anche l'UdB Lui è Richardino, ha una codina bellissima E ha le fette stracci Viaggi Viaggi, guarda Viaggi, guarda Una roccia Cioè, le cose che ha Jacob sarebbe strafivo Cioè, nel senso suo, così Sarebbe bellissimo E qua, però Dici che gli piace? Gli sta piacendo, secondo te Il muro? Ok, gli ho appena dato i grilli sigillatus, quelli mini 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 Vediamo La reazione degli scinchetti Per ora è ancora tutto piatto Ma? Per ora è ancora tutto piatto 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.